Stesso amore, stessa energia. È così che descriverei nuova Renault Clio, che ha deciso di coronare i suoi 30 anni di storia con una rivoluzione di stile, che coinvolge design e tecnologia. Il nuovo look vede mettere su strada un'auto con fare anteriore e posteriore full LED, con una caratteristica a firma luminosa a forma di mezza losanga e una nuova griglia cromata. Elementi che si sposano bene con un design più moderno e accattivante, coronato anche da un nuovo logo. Nuova Renault Clio è una vettura spaziosa. Per garantire un comfort totale ai passeggeri e lunghi viaggi, portandovi via tutto ciò di cui avete bisogno. Anche la tecnologia rappresenta una grande novità, oltre a 20 sistemi avanzati di assistenza alla guida, come l'angolo cieco, la frenata automatica in retromarcia e le quattro telecamere. Avrete a disposizione un sistema completo di infotainment, personalizzabile in base alle vostre esigenze. Nuova Renault Clio è una vettura attenta all'ambiente, non solo grazie alla motorizzazione iTech Full Hybrid, ma anche grazie all'utilizzo, per il 72%, di interni di origine vegetale. Diverse sono le versioni disponibili, tra cui spicca quella più sportiva, la Esprilpin, che ha fatto del DNA delle corse la sua principale caratteristica distintiva. Vieni in concessionaria a scoprire tutti i dettagli.